Buongiorno a tutti, cominciamo con queste interviste impossibili, penso saranno molto interessanti. Sono dietro di presentare la prima, quella del gruppo degli Ottimisti, che è dedicata a un personaggio che è particolarmente familiare, avete sentito uno studioso di Alessandro Magno, cioè Caliste, che è un po' il simbolo del dissenso, della posizione, al proprio di valorità dinamica. E non dico altro, lascio subito, quindi la parola allinea l'intervistante e l'intervistante. Grazie. Buon senso. E' il primo benvenuto per questa terza contata di verde a Caliste, benvenuto. Come da consuetudine iniziamo l'intervista con una solita domanda, lì che bella si sente? Non lo scatto, che buono che si sente. Prego tutto. Una bella, una fiera, diciamo così. Ah, che mi sento bella. Questa, una fiera? Non saprei, direi un euro, sì, per me. E ne ho anche addirittura, e come mai se posso chiederti? Ma, tutta lì, sono già, va troppo pronti, eh? Non era, ma comunque. Ma, allora, diciamo che il motivo per cui sceglierebbe, ora, è che hanno detto di me, un certo Taziano, che durante la mia prigionia, che mi è esposto, in una gabbia, come fossi lì, però non è un euro. L'immagine, devo dire, mi affascina, anche perché della mia morte ne hanno detto di ricotta e di brode, di giovine, eh? Penso addirittura che Giustino, lo conosce, non si diceva, mi ha voluto mutilare il condotto in giro, in gabbia, assieme a un gabbia. Anche Diorgio Reyes, diceva che fosse stato portato con una gabbia, accompagnato niente di meno che dai biglucchi. Inizio, è che immaginazione bellina. E che poi, per mia età, sia stato dato un pasto a un leone. Insomma, tra le immagini di me, come un leone, e l'idea di essere immaginato con un leone è, lei conferrà, sceglierà e ti manda. La prima. Poi devo dire, in realtà, che la mia morte, in realtà, sarà molto meno spettacolare, da tutte queste fantasceme, se lo facciamo così, come è stata narrata. Sono stato prigionato per ben sette mesi, in vista di un processo che non è mai arrivato, davanti, se chi è salito dopo a cadere davanti al sinerio ellenico, e in presenza delle sovra, ma in realtà sono venuto da qualcuno, c'è le due mani dei biglucchi. Lo sa persino tuttanto? Sì, sì. Che poi, tutto questo fastidio di Alessandro, che lui non lo lancia, continua a scegliere. Aspetta, aspetta, a questo ci vediamo con calma. Lei ha parlato delle risposte, che ricordiamo essere su e su, e a tal proposito vorrei chiederle, cosa ne pensa della sua dichiarazione riguardo al suo atteggiamento? Ha detto, nella scorsa puntata, è stato uno spostito, come saprà, che lei è stato un po' questa morte e se l'è cercata, diciamo così. Lei che ne pensa? Ma, ehm, non mi risposta. Cioè, a quale dire, se vuoi c'è la ricordata? Eh, bella legge, a questa domanda le persone che ti ha visto. Sì, sì, caristene, il mio caro nipote. È un bravo uomo. Non comunque, ma devo dire che non aveva affatto buon senso. Bah, soleduttivo, eh, perché è una novità. Comunque, cosa, cosa dovrei dire? In merito a questo. Lui ha sempre avuto la sua idea, che alla fine poi non doveva essere così negativa se lui stessi un ammattato nel 334, in Asia, alla morte di lui, Alessandro. Ma, cosa doveva fare alla corte di Alessandro? Io? Allora, sicuramente era un'opportunità per me e chiaramente anche per mio zio, anche perché lui aveva grandi interessi, diciamo così, cummi, fisico-astronomici, per esempio, infatti, sarei voluto da nessuno di fatto andato a constatare le cause del nino, del gitto. in realtà non si trattava naturalmente solo di questo l'aspirazione di Alessandro era già allora avvertito come un evento straordinario non poteva non interessarmi, ecco, c'è chi dice come Romano Cicero che io sia stato un semplice accompagnatore e chi invece come minore sempre che sia stato un recettore di Alessandro ma in realtà io ero qui per documentare per andare all'ospedizione e tra l'altro ci tengo un recettore questo era il mio compito come lei stessa con legge nella di San Loro Taxis ecco mi dispiace dirvi che le sue opere non ci sono giunte se non moltissime fra me mi interesserebbe profondire la corte di Alessandro Ariano ma anche di me Ariano lo conosce mi ha perso il sito Dice che lei ha contribuito nella sua opera a difornare l'immagine di Alessandro come figlio di Zeus lei sarebbe quindi un operatore un po' ma è stato dottorissimo proprio io in assoluto non era concordato poi lasci perdere lasci perdere il progettivo che hanno su questo allora non so che ho contribuito l'attivizzazione di Alessandro o semplicemente un fatto il mio lavoro la sua filiazione divina era un fatto vecchio e appareva così cioè era simile di Zeph dal fronte lo confermava anche sua madre l'ubbia poi l'avevano confermato anche gli oracoli di Apolo a Sivua preceduti come? pure cioè veramente confermati noi non cotevamo esibirci e tra l'altro erano ricevuto il loro dal passaggio beraulante dei corpi e poi l'episodio bellissimo della battaglia di La Oronella che ho visto proprio io con i miei occhi con testimone pulare diretto quindi prima dello scontro Alessandro lui il grande il grande il grande Alessandro Alessandro il grande incoraggiato per essere dei regi con la lancia nella mano sinistra e danzò la mano destra al cielo e il ruocogli del regano di schierarsi dalla loro e appunto così fu c'è dubbio quindi che gli altri abbiano messo la sua discennezza di lì a me non mi può ciò che mi affascina era l'importanza del tempo che mi affascinava a tempo era l'importanza delle imprese di Alessandro e il mio dovere della storia era quello della battaglia di fare quello che vedevo quindi non ho fatto niente di diverso per me ecco però poi in questa deditazione che ha contribuito a narrare e se è quello che sta contro no? crede? sì sì ho disegnato sicuramente Alessandro come un nuovo Mosè invitato dagli idee invitato dal buono degli uccelli reso figlio di Dio forse è proprio che mi sa insomma ma ma questo con un senso che è il 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 senso ma tantoronde neanche adere noi greci abbiamo tributato un uccelli finificheremente quindi tra Alessandro ha preso forse un po' troppo l'area orientale e tornando tra i suoi gli aggetti per i barbari per i suoi per i barbari ci ha chiesto di fare la proschionesis però aspetti scriviamo perché a casa che cos'è la proschionesis tutta questa volta allora dopo vieni preparata non c'è capito la proschionesis la proschionesis quel rituale in cui ci si incinocchia a re in reverenza cosa è così allora dicevo lui ha di fatto sono troppo l'area da orientale a noi greci tra l'altro vorrei farci prostrare a noi greci il popolo più libero della terra beh si dice si dice anche a Dianco il profilo avrebbe fatto meno imporre questo disonore e magella e barbari ma non a noi ho sempre rifiutato di inginarmi ma fino a quella volta in cui quel maledetto di feide maledetto ma non lo spieghiamo quel simposo fu l'ultimo che partecipai e la mano solo cresce e macete il vino girato e tutti delle mani gli altri adulatori come lebbe dice erano tutti quanti con la fronte a terra si alzate e baciava l'essere aspettai che fosse il mio turno quando l'essere non guardava stava parlando con esistione vedi vedi e mi ha dicito è baciato è feide per maledetto togliere la mano di schiena ma sono non c'è una cartellata quindi lui non mi gridò vuole non accettare il suo bacio perché solo lui non ha fatto la costruzione un po' di verità comunque dicevo poi Alessandro a quel punto mi allontanò dalla sua scicchia e da allora i nostri rapporti non si ripresero più tra l'altro a me era febato quella leificazione il mio racconto delle sue imprese il giro il vincito per il mondo le sue contiste che lo hanno reso famoso la sua fama poi bene è tutto un'ottima rischio ad aspettare poi bene sarebbe vato solo con un picchino terzo qualsiasi pure Ariane ha detto che ho esagerato perché gli ho procurato una fama spositata eccessiva per ciò che aveva fatto e lui è arrivato il giro eccoci una ma ascolti se tornassi indietro ma cosa non farebbe? eh tutto l'esito no la storia mi si dà di sì scuse un elemento un elemento un elemento un elemento beh forse diciamo durante il periodo della giustiziazione dei baggi i giovani accorrevano la media e lei mi consiglio circa le loro azioni tutti volevano sapere se era nel giusto o nel torto se la loro posizione era restata o questo legittimo meno e un giorno e un giorno particolarmente infervorato diciamo così rispose a uno di noi che chiedeva come potesse diventare il leader della sua scelta con le seguenti parole uccidendo uccidendo quello che è che l'illustra di lui che l'illustra è lui lui si tre stanno qui e quando c'era lui e quando c'era lui questa frase è stata la mia condanna non so come dove ogni bocca può essere possibile e in quella reggia anche i muri arrivano le orecchie e questa mia risposta aumentata si tratta di quello che chiede anche di Alessandro quando i giovani che furono poi definiti panci si ribellarono pianzando la congiura Alessandro accusò anche me di averne fatto parte Toleneo Aristotele sicuro maledetti anche loro maledetti che si hanno distrutto questa voce forse perché non stavo nemmeno tanto simpatico almeno allora sono zero ma si era fatto da domani si ok parlo pianamente se non avete risposto però mi faccio vedere questo mi scherzi a gente a volte mi chiede a volte mi chiede l'ho d'altro onesto come sempre ha dato la vicenda e infatti ha scritto che furono gli stessi fagi che dissero di non avere avuto oggi quindi io ero sempre la responsabilità perché altro si può Alessandro una cosa nuova se dico che Alessandro ha raggiunto questi spazi al amore ecco già conferito poi aveva guasaggiato e in quei giorni dopo aver sentito quella frase che avevo pronunciato nasce a me che parlo ecco e dopo non essere frustrato io stavo particolarmente lo so è qualcosa e ricevo un esperimento per farmi fuori ecco però alcuni testimonii riferisco a un dettaglio che lei non ha menzionato e io non posso ricordare tutto il giorno in cui non si è tirato ad Alessandro e poi uscito dalla sala dal banchetto di censo che ci dovessi solamente bene andrò via con un bacio in meno non crede a posteriori che questo atteggiamento abbia contraddito orgoglio e anche una certa tragotanza da parte sua ne ne valeva davvero la pena pazzo ma insomma lei è orgoglio e tragotanza io non sono più un bar io ne ho risposto più io sono greco greco sono greco 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 polpetti primi greco di olito di olito di olito di olito per voi per me la vita è virtù o vivo secondo essa o non vivo io sono stato secondo me me stesso sia chiaro mi chiede se ne è pazza la pena io almeno sono morto da greco ho dissentito perché non trasformo il mio essere per fischare colpito al potere la storia stragolma di lacchè di balletti di zervini del potente di uno di scrittori che l'hanno travisato che hanno fatto al punto da impinanza quel potere salvo poi trasformarsi quando c'è il testo da scrittura ma il tempo dottoressa riporta sempre le cose al proprio posto e il mio davanti ha ragione nonostante ci fossero stati e ci siano ancora dei delatori che hanno più meno riscrivano di loro nel topo comunque ora sappiamo la conclusione vedo che è un po' santo lei ha una certa età delle naturali che sono le cose di ogni gente ecco lei anche in questa intervista ha rilevicato il suo dissenso convincamente cosa direbbe se posso chiedere alle nuove generazioni quelli fuori ragazzi che ci stanno guardando da casa in questo momento che ci ascoltano e che è bello far sentire la loro voce sì ma questa tuttoressa è così questa meravigliutata lei sa come funziona questo programma io inizio si doveva preparare a delle sorprese ho capito sicuramente non gli consiglierei non consiglierei loro di uccidere il pubblico allora c'era fatto c'era definitivamente e poi ragazzi ragazzi studiare e non importare non sicuro bene allora ringrazio la regia per i nostri collaboratori collaboratrici e per oggi l'intervista termina grazie grazie Grazie. Grazie.